è giovedì e come il giovedì che cosa succede che gioca il milan gioca il milan gioca il milan e come ieri abbiamo parlato anche spillo c'era il grande spillo che dice a noi sta coppa manca così chiudiamo il cerchio delle coppe e io vi faccio un applauso ma sei sicuro che la vinci perché ti vedo un po troppo sicuro a te c'è il Leverkusen comunque se sono contenti per sai per inghiottire quella pillola devono avere oscureremo il vostro scudetto con la coppa lo so che è un po dura per inghiottirla giù quella pillola un pochettino però felici in questo modo però però prima devi vincerla alla coppa hai capito spillo auguri speriamo che il milan vinca la 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 europa league che così almeno non li sentiamo piangere più di tanto capito è giovedì